Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Sempre più forte l'integrazione tra il Parco Nazionale e il territorio. Gian Piero Sammuri, presidente dell'ENTE, conferma il buon rapporto che si è creato con le varie realtà dell'isola. Si sono confermati indirizzi comuni con l'associazione albergatori. Quindi mi pare che si possa lavorare bene insieme, quello stiamo cercando di fare. Diciamo che noi continueremo cercando di far vedere che la tutela ambientale è una grandissima risorsa per questo territorio. Tra l'altro mi sembra che moltissimi imprenditori, soprattutto della ricettività ma anche dell'agricoltura, stanno scommettendo su questo, sulla qualità ambientale ed anche gli stessi amministratori locali.